Oggi stavo pensando all'argomento del mio prossimo video e mi sono reso conto che non so di cosa parlare ma non perché mi mancano le idee, in realtà... In realtà ti manca il fiato. Perché mi manca il fiato. Oggi stavo pensando all'argomento del mio prossimo video e mi sono reso conto che non so di cosa parlare ma non perché mi mancano le idee, al contrario perché ne ho tante e sono tutte molto diverse tra loro. Può sembrare una cosa positiva ma in una strategia di comunicazione questa cosa non funziona perché psicologicamente le persone hanno bisogno di identificare gli altri associandoli ad una categoria o ad una caratteristica ben precisa. In questo modo si viene a creare un legame mentale tra quella persona e un argomento, uno stile, un tratto caratteriale che la rende immediatamente riconoscibile e riconducibile. Pensateci, Barbara D'Urso, Balotelli, Donald Trump, Vittorio Sgarbi sono tutti i personaggi che hanno costruito la propria identità pubblica in modo da essere immediatamente riconosciuti e associate ad una loro caratteristica ben precisa. Se nella vita vuoi fare qualcosa che sia il cantante, il giornalista, il politico, l'influencer per cui vuoi farti conoscere e devi essere riconosciuto dagli altri allora hai bisogno di costruire la tua identità pubblica. E questo non vuol dire snaturare la tua indole o la tua identità personale anzi è proprio su questa base che va costruita. La discriminante che inizia a farti capire la strada giusta quando la stai prendendo è quando inizia a diventare semplice è lì la tua vera indole, è quando la cosa che stai facendo ti viene fuori con semplicità entusiasmo e semplicità. Quindi adesso mi restano due possibilità chiedere a mia madre oppure costruire la mia identità pubblica Mestieri, mestieri, mestieri scomparsi Ante scomparsi Anticamente le persone non sono ricamate Ok, come si costruisce l'identità di un personaggio pubblico? Fiore, io sono venuto a prenderti oggi perché ho bisogno di pensare e quindi ho bisogno che mi porti in un posto che mi aiuti a riflettere su una cosa Robert, quale posto migliore di un'antica città greca? Ti sto conducendo nello scavo archeologico della Civitella Siamo nel cuore del Parco Nazionale del Cilento in provincia di Salerno La istromani resti di un'antica città greca che era un avamposto di Elea Elea, per chi non lo sapesse è la città dove è nata la filosofia occidentale cioè la città dove sono nati Parmenide e Zenone E si trova in Italia In Italia Nel Cilento Sempre nel Cilento Cosa che nessuno conosce Esatto Qua stiamo parlando di un insediamento archeologico che risale al 600 avanti Cristo È nata come città fortezza come fortezza o come un avamposto militare per i focei di Elea Era un avamposto militare di difesa contro i Lucani Ti vorrei ma perché ci sono tutte queste mosche? Ci saranno per sempre Queste mosche ci saranno per sempre Robert Ci seguono Ci seguono perché ci trovano saporiti Queste tra l'altro sono le mitiche mosche ciuccigne Le mosche ciuccigne e quelle che succhiano il sangue dei ciucci Quindi adesso farò un esercizio che potete fare anche voi nel caso possa esservi utile per un progetto a cui state lavorando o semplicemente perché volete capire e definire come gli altri vi vedono Quindi ora immaginando di disegnare una tabella tiro una prima colonna e mi faccio la prima domanda E cioè chi sono e in quali ruoli voglio essere identificato dagli altri Nel mio caso specifico ad esempio sicuramente come imprenditore che è il lavoro che occupa la maggior parte delle mie giornate ma anche come un fiero uomo del sud e più in generale come uno che osserva analizza, studia e quindi riflette su tutto ciò che accade intorno a sé dalla società alla politica al mondo dei giovani e del lavoro Nella seconda colonna invece ci metto l'approccio che mi contraddistingue quando affronto un problema o rifletto su qualcosa Io ad esempio sono sempre molto razionale concreto ma allo stesso tempo alla ricerca dell'equilibrio e del buonsenso Mentre nella terza colonna ci va lo stile con cui mi esprimo quando parlo in pubblico Io lo faccio sempre con un tono sarcastico informale, spesso faccio tanta autoironia e ironia sugli altri però può essere qualsiasi cosa insomma ognuno di voi deve farsi una domanda e capire qual è il proprio stile Arriviamo alle parti più difficili nella quarta colonna ci vanno i nemici ogni protagonista ha sempre bisogno di un antagonista e quindi allo stesso modo ogni personaggio che si espone pubblicamente che sia su un palco, in tv o su youtube ha bisogno di nemici e cavalli di battaglia che lo contraddistinguono Salvini ce l'ha con la povera gente Saviano ce l'ha con i camorristi Sgarbi ce l'ha con Volevo dire Di Maio, Di Maio, Di Maio, Di Maio Io ce l'ho con tutti ma in modo particolare ce l'ho con la burocrazia i novax, le sette religiose i fanatismi di qualsiasi genere i razzisti, i omofobi e con tutto ciò che rappresenta un'espressione dell'ignoranza e della stupidità umana Infine nell'ultima colonna ci vanno gli argomenti di cui vogliamo parlare Partiamo dal presupposto che fare tuttologi e parlare di tutto è sempre sbagliato perché la nostra opinione ha un valore se parliamo di qualcosa che conosciamo bene o perché l'abbiamo studiata o soprattutto perché abbiamo un'esperienza importante che quindi rende le nostre idee autorevoli uniche e più interessanti di quelle degli altri Questa è la differenza tra un populista che parla di tutto senza saperne di niente un divulgatore che si limita a raccontare le cose dall'esterno e quello che viene chiamato opinion leader che è qualcuno che parla di poche cose ma in cui è il migliore Sono tutte e tre scelte legittime ci mancherebbe ma a me interessa la terza opzione motivo per cui io ho scelto di parlare di poche cose ma che conosco bene avendo maturato un'esperienza importante lavorandoci dall'interno o dietro le quinte Insomma, per costruire la propria identità bisogna scegliersi una nicchia e concentrarsi su quella ma allo stesso tempo ci sono un paio di trucchi da tenere sempre in considerazione Il primo è di contestualizzare l'argomento di cui si parla legandolo quindi ad argomenti di attualità o a tendenze che le persone stanno cercando in quel momento e il secondo è quello di cercare di rendere utili i propri contenuti se ci fate caso tutto ciò che trovate online e che ritenete più interessante ha sempre una finalità che vi torna utile per qualcosa Il risultato finale di questo esercizio sarà una tabella con delle colonne e una serie di parametri che di volta in volta andranno intersecati tra loro per scegliere di che argomento parlare con che approccio, con che tono e con che stile affrontarlo e in quale ruolo voi andrete a mettere per esprimere il vostro punto di vista La combinazione che andrete a scegliere servirà a definire la vostra identità pubblica e a costruire la reputazione che volete avere agli occhi degli altri Nel mio caso ad esempio, pur essendo sempre la stessa persona oggi scelgo una combinazione che è molto diversa di quella che sceglivo a vent'anni quando facevo lo youtuber prima che youtube venisse inventato A questo dovete aggiungere gli ultimi due ingredienti fondamentali che sono la coerenza e la costanza nel portarlo avanti per mesi o anche per anni e raggiungere così l'unico vero obiettivo di ogni strategia di comunicazione e personal branding trasformare una persona in un personaggio Poi un esercizio per esempio molto pratico che si può fare è quello dell'autoscrittura provare a pensare alla propria vita per capitoli e immaginare di dover scrivere un libro e quindi scrivere i titoli dei capitoli solo i titoli Ok Quindi tu alla fine avrai ad esempio stabilisci un numero che possono essere 12, 15 capitoli e avrai un elenco di titoli di 15 capitoli della tua vita e poi ti metti davanti a questi capitoli e riguardi Ti assicuro che vengono fuori degli elementi molto interessanti perché ti accorgi per esempio se tu ti stai concentrando su elementi positivi della tua vita o negativi Allora per esempio questo già ti racconta se tu sei una persona pessimista, ottimista Molto spesso le persone si sorprendono Il punto è fare esercizi, il punto è fare Stare seduti a immaginarsi una vita e non provare a viverla Quello è il modo migliore per non capire mai chi sei Allora per esempio Grazie.